Verucchio entra a far parte del club dei borghi più belli d'Italia. La missione all'autorevole organismo associativo è avvenuta a conclusione di un iter procedurale che ha avuto il momento più significativo e decisivo. Nel sopralluogo eseguito sul territorio verrucchiese da rappresentanti del club per verificare la sussistenza dei rigorosi requisiti richiesti, cerca le caratteristiche dei luoghi, la conservazione degli stessi, il patrimonio culturale ed architettonico che li contraddistingue. Verucchio vanta un antico borgo, dichiara impronta medievale, rintracciabile in numerose vestigia, mura di cinta, porta d'accesso al paese, rocca malatestiana e nell'impianto urbanistico del centro storico. Nell'anno 2016 i piccoli centri aderenti al club hanno raggiunto il numero di 258. Nella provincia di Rimini se ne contano quattro, di cui solo uno in Valmarecchia. A questi ora si aggiunge a pieno titolo Verucchio. Il prestigioso riconoscimento ottenuto, dichiara il sindaco Stefania Sabba, che va ad aggiungersi all'importante marchio bandiera arancione del Touring Club italiano. Ottenuto oltre un decennio fa è la conferma dell'attrattività turistica, storica e culturale del nostro borgo, della quale l'amministrazione ha piena consapevolezza e per valorizzare la quale ci stiamo impegnando sin dai primi giorni del nostro insediamento. Il Club I Borghi Più Belli d'Italia è nato su impulso della consulta del turismo della stazione dei comuni italiani nel marzo del 2001 con lo scopo di valorizzare il considerevole patrimonio culturale esistente nei piccoli centri, solo marginalmente lambiti dai grandi flussi di visitatori e turisti, elevando la bellezza, elemento fondamentale su cui basare lo sviluppo della comunità locale.